buongiorno a tutti sono Matteo Diogherofatto oggi vi presentiamo Springi 15 perché 15 allora questo prodotto è un prodotto interessantissimo perché a parte il fatto che è di dimensioni molto piccole lo possiamo tranquillamente abitare al nostro nostro muro con dei vari rivettini e questo tubo se noi non dovessimo accendere l'acqua è lungo 5 metri perché si chiama Springi 15 perché dal momento in cui noi apriamo l'acqua con una pressione massima di 3,5 bar questo prodotto si allunga di 10 metri quindi arriva a 15 metri di lunghezza ok quando noi spegniamo lui si ritira la cosa interessante è che non si avvolge non si intreccia quindi non abbiamo non dobbiamo tornare indietro mentre stiamo lavorando a gestire poi l'intrecciamento del tubo perché questo non lo fa qualitativamente è un prodotto eccezionale alla top di gamma della sua linea è un prodotto che resiste dai 50 gradi ai meno 10 gradi quindi grossi problemi non ce ne dovrebbero essere e è un prodotto per me eccezionale perché ce l'ho anche a casa e funziona veramente bene perché dal momento in cui noi in base poi anche all'aumentare della pressione sia l'aumento del tubo non ci sono problematiche di intrecciamento e questa è una cosa comodissima per chi ovviamente ogni volta deve tornare indietro a gestire poi la chiusura che capita ovviamente su altre tipologie di tubi quindi questo prodotto qui è un prodotto secondo me di qualità poi con al suo interno tanti gettini che possono dare delle quantità d'acqua diverse quindi si possono dare ovviamente come vengono riportate su questo lato si possono avere gettate in orizzontale gettate a salice o anche magari gestione di gettata più o meno forte in base poi alla regolazione che scegliamo ovviamente al suo interno abbiamo anche il rubinetto da tre quarti per poter inserire poi al nostro attacco a muro quindi è un prodotto secondo me sia qualitativo che anche come prezzo eccezionale non c'è cosa migliore di questo prodotto quindi vi aspettiamo e vi ringraziamo per l'acquisto grazie a tutti